sto facendo il video così se usano hack è che hanno uccisi due non mi sono corretto no tanto devono spawnare beh comunque non stanno usando no ma se continuiamo a giocarsi in reti. un po e tu vai a prenderlo tu porta la bandiera noi siamo già qua a prendere la bandiera no sì ma ci vanno fatti per sommare eh? arriviamo a trabattere e poi ci sarmiamo sarmiamo vabbè io prendo la batteria vabbè 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 a più c'è la pandora quella col cappellino è morta, c'è uno spuso è sotto è sotto la loro base excellent io c'è 59 hp ma non mi lasco una età non so non so non so abbiamo la batteria non so 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 il marco è solo un crit zero non è che farò vinarlo oh ha oh 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 4 Grazie a tutti Oh, prendo la batteria Oh, cosa ho evitato? Ho evitato una cosa assurda In pratica stavo cazzeggiando Mi guardavo all'indietro Ho schiacciato in giù Mi sono abbassato Minchia, mi sono visto la snippata in faccia Che l'ho evitata di un pelo Assurdo Sto pure facendo video Non ci credo Oh Marco ti sei recuperato la media praticamente Sì però minchia Sono resquittante, deve essere veloce Ma che è un po' No ammone No ammone No ammone No ammone No ammone Beto non ci soggine non vedo Touchdown! Nice win, buddy. Here you go, buddy.